All'indomani della morte di Paola De Vincentis, coltellata ripetutamente dal figlio cristiano, emergono nuovi particolari che delineano i contorni di una situazione di disagio sfociata nel sangue. Nella casa di Bucchiani, con il vicolo di strada Cappellina San Camillo, che conduce alla piazza del paese, la famiglia De Vincentis si era trasferita da pochi mesi a estate inoltrata, affittando un appartamento che mamma e figlio condividevano con la sorella della vittima e zia dell'omicida, assistita perché invalida, dalla 69enne morta. I tre provenivano da Chieti, dalle case popolari del quartiere Tricalle. Una famiglia schiva, che neppure a Bucchianico aveva stretto legami, ma dove residenti e commercianti del centro storico avevano più volte assistito ai litigi tra madre e figlio. Per Cristiano è un passato già costellato da guai giudiziari per minacce e aggressioni a vicini di casa e ad ex. Attualmente il 50enne era seguito dal CERD, il Servizio per le Dipendenze. Un aspetto che chiarisce le continue richieste di aiuto economico che la madre Paola rivolgeva al parroco e il rettore del santuario di San Camillo dell'Ellis, padre Germano Santone. L'ultima lite, quella di ieri mattina degenerata nel sangue, potrebbe essere stata innescata proprio dall'ennesima richiesta di soldi del 50enne, tuttora ricoverato al Santissima Annunziata di Chieti a seguito delle ferite riportate nella colluttazione con la madre e piantonato dai carabinieri. Per lui l'accusa è di omicidio volontario. Paola De Vincentis avrebbe anche provato a difendersi dalla furia omicida del figlio, che però ai militari ha raccontato di aver reagito all'aggressione della 69enne. Spetterà agli inquirenti ricostruire la dinamica dei fatti. Di certo però c'è che nella colluttazione ad avere la peggio è stata la donna, pugnalata anche alle spalle mentre tentava di scappare dal figlio, e che Cristiano, dopo l'accaduto, sarebbe stato visto in strada dai vicini con un grosso coltello da cucina ancora insanguinato e che lui stesso avrebbe allertato il 118. E mentre le indagini vanno avanti, a Bocchianico restano sconcerto e rimpianto per essere arrivati troppo tardi e non aver capito tempestivamente il disagio che si celava nell'ambiente schivo della famiglia De Vincentis, che avrebbe potuto salvare la vita di Paola.